Siamo a Milano con Vicantico e parliamo di eventi, gli eventi del 2013. Ci sono degli eventi interessanti, importanti nel 2013, parliamo di Fight Game a Genova e poi di una grandissima novità. Io vi dico questo, è showtime, Welcome Back League Italia, con il carissimo amico Marco Costa Coda che saluto. Stiamo organizzando a Genova per l'8 e il 9 giugno Welcome Back League Italia. Welcome Back League, lo sappiamo benissimo, è stata un'esplosione di un'organizzazione di Chuck Norris che ha dato un po' di retro per quanto riguarda le arti marziali e ha messo le squadre dentro a una conca dove si combatteva tre minuti, una ripresa da tre minuti. Quindi chiaramente chi vince accumula i punti per la sua squadra, la squadra che fa più punti vince in quel momento lì. Quindi Welcome Back League Italia è sicuramente il prossimo evento più importante che stiamo organizzando a Genova dentro la fiera nautica di Genova e avrà il suo seguito notevole perché Welcome Back League già negli anni precedenti quando siamo stati in onda su GXT Sky, il canale 146-147 del bouquet Sky ha avuto un grande e un grosso risultato. Adesso si approda in Italia per fare questa competizione e sicuramente il successo è garantito. Poi un'altra novità in assoluta, ci stiamo lavorando in questi giorni anche con il canale Sky e GXT soprattutto Bellator is coming, this is Bellator. A fine dicembre 2013 Bellator in Italy è qui, siamo pronti. Bene, una grandissima notizia e aspettiamo bella Toro e bene, Vic alla prossima. Grazie, invocalo a tutti.